Listo, e ora? Listo, e ora? Listo, e ora? Va 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 Listo Ataca Ataca una vez más Otra Ora Tu ves No, tu sei sotto Ora quando sei subito Ora la mano. Ora la pierna. Gira per l'altra. Gira per l'altro lato. Ora la porta. Ora la porta. Ese. Ora la porta. Ese. Ese. Ise. Ese. 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 Ise. si si non lo vediamo qui questo, bene ora il corpo qui e io lo faccio qui questo ora intendo colpio con il succo va, su qui su qui, che buono ora giro in catà su qui è questo questo è giusto è giusto? sì ora devi girare non, girare la catà in tua mano non, con le due mani ah, è giusto è giusto è giusto è giusto e ora posso fare questo qui è giusto su qui su qui si os allora faccio una volta su qui io faccio questo quando faccio questo io faccio un po' ora l'acqua 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 e ora l'acqua 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 Ora giriamo insieme. Ricordate un dettaglio, quando vengo qui, vengo a fare questo e questo. Quindi non c'è tempo. Quindi, uno recupera. No. Attacami qui. Prendo il brazo qui. Alla, questo. Prendo qui. Prendo qui il brazo. Si, si. La unica cosa che faccio è camminare la stessa. Non. Qui. Qui. Ora, faccio il bambino. E mi pato per l'arrica. L'arrivo. Arrondiamo. Qui. Alla. Si. Qui. 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 Se lo golpea di pierna e pone il katana al bajo. Intentate. Hai seos. Ora pinchame. Hai seos. Ok? Cura mi oseos. Ok, dubbi. No, sta molto chiaro. E' molto interessante. Ha dato per l'oportunità di... Sturio molto, 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 molto raffinato. Hai seos. Ok.